Sono Paolo Osti e sono il proprietario della Torraccia di Presura, una azienda del Chianti Classico in una splendida zona vicino a Firenze, subito dopo il Golf del Lugolino. Una sensazione di legame forte con il territorio dove ho scelto di vivere. La mia più grande soddisfazione è quella di essere riuscito, partendo dall'acquisto di un vigneto dove non c'era niente, nel 1986 a prima progettare e poi costruire questa complessa aziendale con la cantina e portarla in una trentina di anni a avere un discreto successo e una presenza nel territorio del Chianti Classico.